Essere persimoniosi con luce e gas evitando sprechi che se prima erano un lusso oggi sono una follia a volte può non bastare perché l'aumento esponenziale dei costi energetici rischia di essere una valanga di bollette che travolge indistintamente pubblici esercizi, aziende, enti e cittadini. E soprattutto per aiutare questi ultimi che si sta muovendo l'associazione Codici Abruzzo intensificando la propria attività a tutela dei consumatori piagati dal caro bollette. L'associazione regionale a tutela del consumatore che opera da circa 20 anni a Pescara ha presentato alla stampa un'iniziativa istituzionale che sarà portata all'attenzione della regione con una mozione di cui si farà carico il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e vicepresidente del consiglio regionale Domenico Pettinari. Il supporto ai cittadini arriva direttamente dall'ufficio legale di codici composto da professionisti esperti in ambito amministrativo, civile, penale, tributario, condominiale e finanziario, come sottolineato da Ciriaca di Prospero, responsabile dell'ufficio conciliazioni di codici. Nell'ultimo periodo particolarmente attivo lo sportello conciliazioni che ha ricevuto centinaia di segnalazioni da parte di utenti che hanno ricevuto bollette esagerate e che non sono riusciti da soli a far valere i loro diritti nei confronti dei giganti telefonici ed energetici. Il caso di una pizzeria che ha ricevuto bollette di luce per 4.000 euro per due soli mesi, siamo riusciti a farla annullare perché era stato attivato un contratto non richiesto. Oppure il caso di un utente, persona fisica della provincia di Pescara, che ha ricevuto un'unica fattura gas da 13.000 euro e anche lì siamo riusciti a farla annullare perché c'era stato un blocco di fatturazione. La proposta che vogliamo fare oggi per fronteggiare il caro bollette è una legge da indirizzare al governo tramite una mozione che verrà presentata alla Regione Abruzzo da parte del Vice Presidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari, che obbliga i gestori a non effettuare i distacchi in pendenza di reclamo oppure quando è stata presentata una domanda di conciliazione presso l'autorità. E nel caso in cui il distacco fosse già stato eseguito, obbligare i gestori a riattivare il servizio senza che l'utente paghi nulla con la presentazione di un provvedimento di urgenza contestualmente alla domanda di conciliazione. Sicuramente questa è una misura emergenziale che deve essere supportata da interventi strutturali ma che noi riteniamo molto efficace perché oggi, come sappiamo, l'unico modo per riattivare il servizio una volta che è stato distaccato è quello di pagare tutto in un'unica soluzione. Invece in questo modo la riattivazione avverrebbe automaticamente senza che l'utente paghi nulla fino alla chiusura della conciliazione. Quindi invitiamo tutti i cittadini che hanno problemi con le bollette a rivolgersi ai nostri uffici che si trovano qui a Pescara in via Carlo Alberto dalla Chiesa numero 15. Per il pentastellato Domenico Pettinari si tratta di una soluzione di emergenza che deve essere però affiancata da altre misure strutturali. Il governo deve fare di più, stanziare risorse fresche da dirottare immediatamente nelle tasche dei cittadini. Io ho seguito e sto seguendo in questi giorni il caso più eclatante di quel ragazzo che è attaccato a una macchina elettromedicale e la mamma ha fatto un appello, ha detto io non posso pagare le bollette, ci sono i fondi europei, non c'è altro da fare, mettere soldi nelle tasche dei cittadini per aiutarli a pagare le bollette perché tra poco ci sarà il grande inferno, non inverno, il grande inferno che arriverà presto e ci renderemo conto di quel che sarà.